Nessuno vuole vedere la tua faccia sul monte Rushmore, Billy! La gente viene per i presidenti, non per i somari ricchi! Adesso basta darmi fastidio mentre lavoro, Tennyson! Fermo, fermo, fermo! Staresti lavorando? Neanche sai che cosa significa! Senza i tuoi Billions sei solo Billy! Senti, Coso, la famiglia Billions comanda da molto prima che esistessero dei perdenti chiamati Tennyson! Facciamo i seri! Nel tuo nome c'è un dieci, nel mio ci sono i Billioni! Capirai! La tua è fortuna! L'OmniTrix invece ha scelto me! Forte, ora che ci penso è successo in questo bosco! La stella cadente, che non era una stella, è tutto a un trozzo! Divento un supereroe che prende a calci la gente come te! Non voglio una lezione di storia, Tennyson! La storia non è il tuo forte? Matematica! Quanti bernoccoli servono sulla tua testa per capire che sei un perdente? Risposta? Zero! Preso! Sei salvo, piccolo? Vi ha i tuoi amici di stare tranquilli? Oh! Tortane! Cavoli, ho buttato Tennyson in un'altra realtà! Grande! Ehi, toglimi questa forza spazio temporale di dosso, stupido vortice! Oh! Ridi pure, Billions! Non mi colpirai a tradimento! Fermi! Cos'è quel coso? Dov'è andato Billy? Ben! Ci serve la legna! Vuoi scherzare? Sono un po' impegnato, Gwen! Ben! Non credere che mi berrò le tue stupide scuse per tutta l'estate senza... Senza? Senza prima essere sicura che tu non inizierai a darmi una... Aiuto! Gwen? Gwen? Hai detto qualcosa? Trovato la legna? Bene! Tannison! Un mostro! Un mostro! Un mostro? Ma di chi sta parlando? Crede che Tannison sia un mostro? Bene! Allora finirò il mio ritratto sul Monte Rasmur! Ehi! Sta attento a dove vai! Sta attento a tu! Tu? Io? Un attimo! Io mi sa che la conosco! Lei è Billy Billions! Abbiamo già discusso dei nostri nomi, Tannison! Aspetta, l'orologio? Ma che fine ha fatto il tuo aggeggio alieno? Aggeggio alieno? Non sono un tipo d'orologio, signor Billions! Ci siamo già incontrati! Mi ha chiamato Tannison! E tu mi hai chiamato signore? Allora quello era un portale temporale! Ho viaggiato fino a un periodo in cui il babbeo non aveva ancora il suo supergiocattolo! Questo vuol dire che se arrivassi al cratere potrei prendere l'orologio e dominare il mondo! Allora, signor Billions, che ci fa nella foresta? Oh, niente! Le solite cose! Cercavo un amico con cui passeggiare! Ehi! Hai mai visto uno di questi? Ehm, no! È tostissimo! Ti va di provarlo? Ok! Ben, da chi stai scappando? Da te! Ben, ferma! Ben! Perché tutta questa scena? Scena? Vuoi dirmi che non hai visto l'orrenda creatura con gli occhi d'insetto e la testa a cono? Parli di XLR8? XL cosa? Mi stai prendendo in giro! Sai che cosa ha detto il nonno riguardo al prendermi in giro? Dov'è andato? Dov'è andato? Chi? Che cosa? Dov'è finito? Dov'è finito? Ah, visto che roba? Questo caschetto è grandioso! Lei è grandioso! Questa vacanza è grandiosa! Vuoi una pietra più grande? Sì, vado a prenderla! Ecco l'Omni-Trix! Quello che cos'era? Billy, lei ha visto... Niente! Non ho visto niente! Prova il fuoco a ripetizione! Gioca tranquillo! Io prendo la merenda! Torno subito! Datevi del pazzo, ma quello è il ragazzino più simpatico dell'intero pianeta!